va tutto bene anche tale delle città e delle immensità quello li è tornantino quando scendi giù dal tornantino fallo bene questi vanno via alle devo dire che bisogna andargli il coso che scrivono l'orale di partenza della prova si è start start 10.15 non mi ricordo che la lì si forse si 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 lo start vedi che lui parte alle 10.14 e lui partiamo alle 10.15 ha una penna quindi suppondo che non ce l'ho più non ce l'ho più con l'acchietta casco ok aperto grazie quando vi danno la tabella dovete guardarla subito non vede che manca un tempo il navigatore serve per quello dovete guardare non succede niente però dovete guardarla guarda la tabella grazie quindi era quello del piazza marconi ci sei andato tu non te l'ha scritto tornante destro non tagliare per sinistra 3 i tronchi destra 3 vediamo qua i tronchi ne ha spostati il piazza 4 per sinistra 28 gradi e 2 il sole qua farà 14.21 più 40 alle 3.01 può essere fa sempre 3 minuti dopo e vabbè non puoi arrabbiare ciao 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 ma mai più ma in che senso va bene avevi ragione 14.21 e allora alle 3 dai, più 40 minuti dai, 0-1 ecco, va bene venghino signori, venghino più gente entra più bestie si vedono venghi, sinistra bella destra bella un tornante sinistra bella bravo destra 2 eh, mi facevo le segni, non potevo non fare non tagliare, non tagliare i finestrini vaffanculo, parca dica di 80.000 gradi non so più che metro non ho scogliato la macchina ma l'ho allungato qua secondo me si non vedo neanche dove è la fine ah, dai, il pirillo eh, prenditi un 15 secondi 15 mi da 15 mi da 15 faccio 16, che faccio, lascio? si, lasci, lasci abbondi, abbondi vai cosa fa il cazzo? problema sono mono idraulico e anche le cavallette le cavallette le cavallette e anche le cavallette per fare l'amore e anche i calabroni che coioni e anche i calabroni andiamo a registrare a proposito per far l'amor ehi si, c'ha ragione è sempre di quella si però calmo si però cammina ci stava provando grazie 10.04 mi stavo affezionando questa tabella comunque è quella che abbiamo tenuto più di tutte però in destra 3 30 destra 3 chiude destra 3 chiude qui all'albero per sinistra 3 per sinistra 2 sul fondo e non tagliare ma no, ok non tagliare destra 2 lunga al cartello tornante sinistro ve l'ho detto che non andava 30 destra 3 per tornante destro il freno il freno o la frizione? la frizione si è bloccata sul mandorlato è rimasta su si è incastrata su questo qua non usarlo neanche lascialo lì lascialo lì no forse lo tiramo in poco forse lo arriva lì vabbè stesso butta avanti facciamo avanti? no no buongiorno scusa si cosa meno? è sembra di vedere sempre le stesse facce che i commissari si assomigliano a tutti come in RBR sono tutti uguali come in RBR buongiorno 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 bene bene mettimi tante cose bene grazie altrettanto buongiorno 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 hai tolto il velox da giù vero? si si chiudo no ma me lo tirerei no no vai tranquillo è a posto 30 addosso vai dritto no dritto 30 sinistra per chi in destra 2 taglia nante sinistro largo 20 tornante destro guarda destra 3 2 chiude al palo no per cazzo me lo spieghi scusa destra destra veloce destra veloce poi c'è la sinistra deve essere finita bene ottimo siamo anche divertiti con un paio di farle bolle uh perchè me l'hai spenta ma non so io ero lì tac ma che cazzo fa? hai sbagliato hai sbagliato io ti volevo spegnere la ventola puzza ok scusa bella la velo ma che vuoi a parte si boh siamo mega in anticipo la c'è es è lì v lì v Grazie.